E quindi iniziamo la nostra lezione raccontandolo e contestualizzandolo rispetto all'argomento che stiamo trattando, ovvero l'epistemologia, la filosofia della scienza a cavallo fra otto e novecento, ma soprattutto il novecento, col concilio domani, ve lo dico, con il circolo di Vienna, l'ho detto tutti, con il concilio. Il circolo di Vienna è quello che abbiamo trattato la scorsa volta, ripetiamolo brevissimamente, è quel gruppo di professori accademici dell'università di Vienna che si pongono il problema di come separare la scienza dalla filosofia, da ciò che è positivo, da ciò che non lo è. E ci siamo concentrati, in particolare con Schlich, fondatore del circolo, con il principio, sul principio di verificazione. Tutto ciò che è verificabile ha un significato e il criterio di verificabilità è proprio il significato di quella proposizione. Ciò che non è verificabile è metafisica e quindi deve essere espunto da ogni indagine razionale di discussione, non espunto dalla vita di un uomo, che non si sta dicendo, i positivisti non affermano certo questo, nessuno lo affermerebbe mai. Non è che va espunto dagli interessi di un essere umano, ma va espunto da ogni indagine e discussione che voglia dirsi razionale. Questa è importante. Metafisica ha ancora, soprattutto all'inizio del Novecento, ha ancora le sue lunghe mani all'interno della scienza, bisogna buttarla fuori. Popper non ha mai fatto parte del circolo di Vienna, ma come qui ci ricorda Noirat che noi abbiamo incontrato, ne era l'oppositore ufficiale. L'oppositore ufficiale vedremo perché, perché Popper, anticipo, spoiler, non solo non riteneva che il principio di verificazione non fosse adatto allo scopo, ma, e vedremo perché tra poco, ma soprattutto che la metafisica non deve, non deve essere separata dalla scienza. Metafisica e scienza non sono la stessa cosa per Popper, ma non devono essere separate. Si ricommetterebbe un grosso errore per la scienza stessa. Allora, partiamo dall'inizio. Popper, da buon epistemologo moderno, ritiene che l'induzione sia un principio, un fondamento, che non dà nessuna garanzia di verità a una proposizione scientifica. Il titolo è forte, l'induzione non esiste, l'induzione ovviamente esiste, ma non esiste come principio che dia fondamento a una proposizione scientifica. Perché? Perché ci poniamo il problema? Perché da sempre la scienza, che si fonda sull'esperimento, ritiene che l'unico modo per controllare se una teoria scientifica sia vera o meno, sia valida o meno, è che vi siano un numero potenzialmente infinito di casi che lo confermino, che la verifichino appunto. Il principio di verificazione proposto da Schlich è un principio che si fonda fortemente, non soltanto, ma fortemente sull'induzione. Ho bisogno di tante prove che verifichino, ma come ci ha insegnato il buon Bacone a suo tempo, che avrete visto l'anno scorso quando avete parlato di Galilei, l'induzione può essere fatta in soli due modi. In realtà erano quattro, però per Popper sono riducibili a due. E numerazione e eliminazione. E numerazione significa che devo vedere, devo poter verificare un numero potenzialmente infinito. Ma, dice il buon Popper, nessun numero di osservazioni riesce a stabilire la verità di una legge. Io posso vedere una legge, un'esperienza, verificarsi, anzi verificare una mia legge, un numero infinitamente grande di volte, ma non è mai completo. Voi conoscete la favola del tacchino induttivista, di cui qui vi ho messo una bellissima canzone che potete ascoltare. Il tacchino induttivista, se non ve l'ho mai raccontato, è un racconto di Russell, non è di Popper, il quale dice che c'è un tacchino americano che tutti i giorni alle ore 7 vedeva il contadino e dopo un certo numero di esperienze deduce, se alle ore 7 vedo il contadino vuol dire che sto per mangiare. Perché così succede per tutta la sua vita, finché non arriva il giorno di Natale. Il giorno di Natale il tacchino ovviamente alle 7 non va lì con l'intenzione di sfamarlo, ma va lì con l'intenzione di strozzarlo. Quindi per quanto grande sia il numero di esperienze che verifichino la legge, la legge non è mai scientifica, non può mai assurgere a verità di scienza. Oppure per eliminazione, eliminare una teoria falsa. Si verifica per induzione la verità di una teoria finché falsifico le teorie contrarie. Ma quante sono le teorie contrarie? infinite. Dunque anche per eliminazione l'induzione non garantisce la scienza. In questo sarebbe stato d'accordo Wittenstein, dicendo che il principio di induzione è dunque o una o l'una o l'altra, delle due l'una. O è una proposizione analitica, cioè tautologica, non ci dice niente del mondo, è un principio, oppure è sintetica, cioè qualcosa che è vero soltanto nella misura in cui si verifica. Per esperienza, ma se è la seconda, allora per i motivi detti sopra non ne può essere mai garanzia di una verità scientifica. Dunque, la scienza si deve fondare anche su qualcos'altro, non soltanto su un numero potenzialmente infinito di esperienze. Popper si concentra sull'analisi della cosiddetta mente, quella che lo stesso Vacone, citato poc'anzi, chiamava tabula rasa. Ma in generale gli empiristi inglesi, che hanno fondato tutto sull'induzione, ritenevano che la mente umana fosse una tabula rasa. Si nasce senza nessuna idea. È attraverso i sensi e l'esperienza che nella mia mente vanno a scriversi, attraverso le impressioni e le copie delle impressioni, le idee. E attraverso dei principi di funzionalità della mia mente, le idee vengono legate tra loro. Ma all'inizio è come una lavagna vuota. Finché non ci scrivo qualcosa sopra, non c'è niente. Per Popper questa è la più grossa delle fesserie e che è stato uno dei più grossi problemi, difetti, motivi per cui la scienza spesso fa fatica a progredire, appunto della scienza stessa. Uno dei più grossi errori. La mente è una tabula plena, dice Popper. Nella mente già la mia nascita c'è scritto di tutto. E per evoluzione, per sua stessa conformazione. E anche se non alla nascita, comunque per l'esperienza dei primi anni di vita, quando io ho scienziato, vado, scienziato o comunque essere umano curioso, vado a pormi dei problemi, vado a fare delle indagini nel mondo, nella natura, vado sempre con dei pregiudizi. E quei pregiudizi non solo sono ineliminabili, come Bacone vorrebbe. Anche Bacone parlava degli idola. L'uomo è pieno di idola, deve liberarsene per poter fare un'indagine oggettiva. Popper risponde col cavolo. Quei pregiudizi sono fondamentali per poter compiere una indagine significativa. Tradotto. Devo sapere cosa cercare. E per quanto il motivo per cui cerchi qualcosa nella natura sia roba che non ha niente a che fare con la scienza, che ne so, mi sono sognato qualcosa, credenze religiose o per fede, malattie mentali, quello che vi farà voi, qualunque sia il motivo, ho usato esempi estremi, oppure semplici speranze, qualunque siano i motivi per cui io cerco, devo averli. Devo avere un orizzonte di ricerca. È un po' quello che diceva Kant con le idee della ragione. Le idee della ragione non hanno nessuna verità sostanziale, ma servono, sono utili. Lo stesso risponde Popper perché fanno parte della nostra mente. Ma, attenzione, per Kant le idee della ragione sono puramente formali, prive di contenuto. Per Popper invece le idee della ragione, il contenuto ce l'hanno, sono tutte le nostre speranze, tutte le nostre credenze, tutti i nostri pregiudizi. Noi non possiamo che avere pregiudizi, e meno male che ce l'ho, perché grazie a quei pregiudizi io vado a cercare qualcosa nella natura. Poi, quando io vado a cercare ciò che mi aspetto e quel che mi aspetto non si realizza, beh, ecco che allora si crea un problema, un'aspettativa delusa. E dai problemi nasce il bisogno di risolvere quel problema. Ma, come vi dico qui nell'ultima frase, non posso darmi soluzione di problemi se non ho allo stesso tempo una, attenzione, il termine che usa molto Kantiano, immaginazione creatrice di ipotesi. Cioè le ipotesi sono sempre una creazione, un'immagine, un modello della natura che non posso prendere dall'esperienza stessa. E qui Popper sembra aver riletto e interpretato, in un modo non troppo fantasioso, Galilei. Perché già con Galilei lo dicevamo, il momento dell'ipotesi è un momento creativo, l'immaginazione, che poi chiaramente deve trovare una conferma. Ma, e se non la trova, si crea un'aspettativa, un problema, un cambiamento di ipotesi. Ma quando cambio l'ipotesi ne devo creare un'altra. Quindi, il buon Popper fa una distinzione, che non è solo sua, fanno in tanti, ma lui la sottolinea dal suo punto di vista, e fa una distinzione tra il cosiddetto contesto della scoperta e il contesto della giustificazione. Il contesto della giustificazione è quello su cui si sono concentrati tutti gli epistemologi del suo tempo, compresi quelli del circolo di Vienna. Come giustificare la verità delle proposizioni. E va benissimo quello che sostengono nel concilio di Vienna. Ma perché continuo a sbagliare? Nel circolo di Vienna. Ma quello che manca a queste epistemologi è il contesto della scoperta. E la scoperta avviene sempre come una sorta di processo psicologico, qui vi sottolineo, di genesi delle idee. Le idee non vengono soltanto, vengono anche da lì, ma non vengono soltanto dall'esperienza. Vengono anche da qualcosa che è in me, che può anche non avere nessun riscontro immediato nel mondo, ma mi danno una sorta di mappa, appunto, di modello per cercarne qualcosa. Qui Popper fa spesso l'esempio, forse ve lo dico più avanti meglio, comunque intanto ve lo anticipo, fa spesso l'esempio dell'atomismo di Democrito. Democrito non ha nessuna possibilità di dimostrare, di anzi di mostrare, quindi di verificare l'esistenza degli atomi. È soltanto una teoria metafisica, a scientifica, anzi a priori. Gli atomi è un principio che serve a giustificare quel che poi l'esperienza mi racconta, cioè che i corpi nascono e muoiono, ad esempio. Allora un principio può essere il fatto che i corpi siano composti da atomi, e quindi da corpi minuscoli, ma non divisibili all'infinito, eccetera, eccetera. Poi, da questa idea, di questo principio che mi ha guidato, da questo pregiudizio piontale, che mi ha guidato nella ricerca scientifica del mondo, trovo una giustificazione. Quindi il processo di giustificazione arriva dopo. E arriviamo al cuore del popperismo, la sostituzione del principio di verificazione con un altro, quello di falsificazione. Allora, prima di... Lo vediamo, lo vediamo nel dettaglio, prima di vedere le conseguenze che sono la cosa più importante. Allora, cosa intende Popper con falsificazionismo? Una teoria scientifica, dice Popper, è tale solo se è falsificabile. Non verificabile, come dicevano i viennesi. Perché? Perché la verificazione non è mai sufficiente. Io posso avere miliardi di prove che giustifichino una mia teoria, ma la miliardo e unesima può dirmi il contrario, che è quell'esempio del tacchino. Quindi verificazione non fonda mai definitivamente, sufficientemente, una teoria scientifica. La falsificazione invece è molto più forte. La falsificazione, come la verificazione, garantisce che una teoria è scientifica, cioè può essere messa alla prova dell'esperienza. Ma è molto più forte perché la falsificazione basta una volta. Quindi la teoria è scientifica, fin tanto che è falsificabile. Il compito della scienza è falsificarla, cercare di falsificarla, non di verificarla. Perché se cerco di verificare una teoria, creerò sempre delle prove ad hoc, che cerchino di effettivamente di confermarla. Il compito della verificazione è non trovare esempi opposti, contro esempi, e quindi è più facile che una teoria falsa sopravviva. Con la falsificazione invece una teoria falsa è molto più facile che muoia, ed è preferibile. Quindi come vi dico qui, ha simmetria logica tra verificazione e falsificazione. E qui in questa stessa stica. Sì, è quello che vuole. Allora, la verità assoluta, infatti, non è un compito della scienza, ci sta dicendo il buon Popper. E qui noi dobbiamo, ora vediamo la conseguenza del falsificazionismo, ora ci limitiamo soltanto a dire che cos'è. Per la prossima slide vediamo dove vuole arrivare. La falsificazione è un criterio di significanza, cioè mi dice che cos'è una teoria scientifica e cosa non lo è. No, scusate, non è un criterio di significanza, è un criterio di demarcazione, cioè mi distingue cosa è scienza e cosa è metafisica. Ok? Una teoria metafisica è tale quando non può essere falsificata. La teoria degli atomi di Democrito non può essere falsificata, perché non posso trovare prove che mi dicano no, la teoria l'hanno fatta di atomi, perché non posso vederli. La teoria diventa scientifica, invento il telescopio, si chiama così? No, non telescopio, microscopio, invento il misoscopio e mi accorgo, boia, è vero, c'è esistono gli atomi. Allora adesso diventa una teoria scientifica, perché posso falsificarla? Infatti è stata falsificata, perché gli atomi non sono gli elementi, non sono gli elementi indivisibili, li posso dividere. a quel punto divento scientifica e la falsifico. Ma falsificandola che cosa faccio? In realtà non la nego, non la butto via, la miglioro, di solito la miglioro, poi non è a volte la butto via, questa è la storia della scienza, poi prende il suo corso. Però quello che è importante per Popper è capire che cosa è scienza e quindi come essa si può migliorare. Si può migliorare soltanto se parto però da teorie che invece sono ascientifiche, sono prescientifiche, sono metafisiche. L'esempio di Democrito qui è eccezionale. Parto da un'idea metafisica, arrivo finalmente a trovare un modo per falsificarla, lo faccio e la miglioro. Perché infatti la teoria degli atomi non è che è stata buttata via, è stata migliorata, è diventata una teoria scientifica e quindi diventa qualcosa di più rispondente alle esigenze della mia vita terrena e ci costruisco le bombe atomiche. spero sia chiaro. Quindi il compito di Popper non è arrivare alle teorie vere, assolute, è quello di trovare dei principi che mi permettano di non confondere la scienza con altre cose. E non era il criterio di verificazione, ma è quello di falsificazione. La conseguenza del criterio di verificazione, scusate, di falsificazione è questa. La differenza più grossa con i circolisti di Vienna è la differenza tra significanza e demarcazione. Dicevano i circolisti, ripetiamo, il criterio, il principio di verificazione distingue ciò che ha significato da ciò che non lo ha. La scienza è da fatto di proposizioni che hanno significato, la metafisica no. E anche in questo Wittgenstein, ricordiamo, era d'accordo, almeno il primo Wittgenstein, quello del Trattatus, ciò che non posso verificare verificare non è una descrizione di fatti. Popper qui è contrario. Dice, non è assolutamente vero che le proposizioni metafisiche non abbiano un significato. Il significato ce l'hanno, anche se non sono verificabili. Perché io so benissimo che cosa significhino asserzioni che non posso, anche se non posso verificarle. Perché sono ciò che danno origine alle mie ipotesi che mi permettono di cercare nel mondo. Mi danno una direzione di ricerca, anche se sono puramente fantasiose. Io so benissimo che cosa significhi che al centro della Terra c'è il diavolo col forcone che mi aspetta. Lo so benissimo, anche se non è verificabile. Perché il diavolo non si fa vedere. Il diavolo fa le coperche, le pentole non i coperchi, il diavolo è invisibile, eccetera, eccetera. Però anche quando dico una cosa del genere, il diavolo è invisibile, so benissimo cosa significa questa affermazione. Quindi il criterio di falsificazione che sostituisce quello di verificazione non è un criterio di significanza, ma di demarcazione. Cioè, demarcazione, di divisione tra ciò che è empirico e ciò che non lo è. La demarcazione è soltanto un modo per stabilire quando un'asserzione merita di essere falsificata da quando non lo è. Ma da un punto di vista di processo scientifico di ricerca, nel contesto della scoperta che dicevamo prima, non vanno separate. La metafisica è utile se ne ha bisogna tanto quanto la scienza. rinunciare alle affermazioni metafisiche significa rinunciare al contesto della scoperta, cioè rinunciare alle ipotesi che mi permettono di cercare. Ok, questo è il popper epistemologo e spero abbiamo capito due o tre punti veramente importanti. Il primo è il criterio non esiste l'induzione. Non esiste, non è valido il principio di verificazione e si sottolineisce con quello di falsificazione. Compito della scienza della comunità scientifica è cercare di falsificare quanto più possibile ogni teoria scientifica per mettere alla prova dell'esperienza e quindi poterla sostituire appena viene falsificata o migliorata più che sostituire di solito nella scienza si migliora difficile che si butti via tutto quello che è creduto vero fino a quel momento e poi il criterio di demarcazione e cioè che ciò che distingue la metafisica dalla scienza è soltanto che la prima è una guida non deve essere sottoposta a nessuna prova alle prove devono essere sottoposte le conseguenze di quella metafisica le conseguenze le teorie scientifiche che derivano come proposte di soluzioni di problemi che nel mondo trovo quando non rispettano le mie aspettative metafisiche i miei sogni io mi creo un modello del mondo una mia immaginazione credo che nel mondo si possa volare mi butto dalla finestra cado ho un problema evidentemente devo cambiare la mia metafisica devo cambiare però come faccio ho formulato una teoria formula una teoria e cerco di falsificare in questo caso la falsificazione è già nella mia caduta dalla finestra ok passiamo al popper che dalle sue convenzioni epistemologiche fa le sue considerazioni diciamo in ambito sociologico la dialettica e cos'è la dialettica e capiamo tra poco perché ne parliamo popper scrisse un sacco di roba anzi proprio un'opera cos'è la dialettica in particolare esprimendo la sua la sua idea su tutte quelle teorie pseudoscientifiche che lui chiamava pseudoscientifiche perché pretendevano di essere scienza ma non lo erano che evidenziando come tutte queste si fondino su un approccio comune che è la dialettica allora la dialettica noi possiamo prendere quella di Hegel e le comprende tutte ma popper ce l'ha anche con quella di Platone con quella di Mars ce l'ha con tutte e anche con alcune teorie dialettiche che poi sono state prese anche da altri epistemologici cioè colleghi di popper anche nel mondo della scienza la dialettica ha preso piede soprattutto nella prima parte nella parte finale dell'ottocento inizio novecento la dialettica dice popper è un metodo che vuole essere scientifico ma in realtà di fraintendimento in particolare assolutizzazione del metodo scientifico prima avete detto ma qui neanche con la falsificazione arriviamo a una verità assoluta e meno male risponderebbe popper perché pretendere di arrivare a una assolutizzazione di ogni legge scientifica significa arrivare a una assolutizzazione del metodo scientifico stesso che invece è fondato sulla ricerca ricordiamoci ciò che ci ha raccontato Galilei sempre sempre dobbiamo ricordarci ogni legge scientifica è sempre una semplificazione è un modello un modellino è pretendere che una legge sia definitiva è come pretendere che la cartina di una città sia la città stessa non è possibile oppure o meno non sarebbe utile comunque non sarebbe scienza sarebbe la realtà se io voglio parlare della realtà nel momento in cui ne parlo uso proposizione uso linguaggio uso schemi modelli non è più la realtà stessa quindi quando pretende la scienza di essere assoluta ecco che non è più scienza è un po' la pretesa in cante di parlare del mondo come fosse un'esperienza il tutto non è un'esperienza quindi la dialettica che ha questa pretesa e che quindi sfugge alla prova dell'esperienza non è scienza e abbiamo qui infatti ora torno indietro questo l'ho messo in fondo abbiamo infatti i suoi attacchi da un punto di vista anche politico sociologico e morale a quelli che sono i tre campioni della dialettica in questa lista potremmo mettere anche Freud con il quale Puresh l'aveva per lo stesso motivo anche se non per colpa di Freud secondo lui però parliamo solo di questi Platone, Hegel, Marx cioè i tre campioni della dialettica i quali attraverso la dialettica hanno preteso tra le altre cose come conseguenza pseudo-scientifica di descrizione della società di descrivere una società definitiva assoluta la società chiusa la dialettica di Platone che è una dialettica scientifica arrivava a una rigida divisione delle classi nella società cioè coloro che conoscono le idee e con loro che non le conoscono Hegel arrivava alla giustificazione e apologia dello stato prussiano quindi una giustificazione dell'esistente la dialettica pretesa scientifica di Hegel arriva a giustificare anche la politica la morale Marx non ne parliamo Marx un po' per qui non ce l'ha con Marx ce l'ha con i marzisti il materialismo storico quindi dialettico di Marx porta anch'essa a una giustificazione della realtà e lo si vede infatti quando quando nel novecento si vede che le teorie di Marx non si verificano Marx ha fatto tutta la sua previsione di caduta del capitalismo e il capitalismo non cade anzi si trasforma in un modo che Marx non ha previsto e allora cosa fanno i marzisti invece di ridiscutere la teoria come si dovrebbe fare in qualsiasi ambito scientifico creano teoria d'oc per giustificare caso per caso diventa una sorta di giustificazione dell'esistente se succede così è perché ma come aveva previsto Marx infatti e si rinterpreta Marx all'infinito un po' quello che succedeva con Aristotele per gli scienziati fino al 1600 la scolastica aristotelica si usa Aristotele per giustificare si usa Marx per giustificare si usa Heger per giustificare il cristianesimo abbiamo parlato anche di dialettica di scolastica egeliana quindi la scolastica in generale che è qualcosa che deriva dalla dialettica è qualcosa che rende le società chiuse e quindi impedisce loro di progredire normalmente come un qualsiasi sistema naturale evoluzionistico l'evoluzione perché è possibile perché gli individui sono liberi di modificarsi e quindi adattarsi ai nuovi problemi quindi sulla base delle sue teorie scientifiche che Heger è un aperto sostenitore del liberalismo ovvero di quelle società in cui gli individui sono liberi possono esercitare la ragione liberamente esercitarla in modo critico e quindi possono risolvere i problemi quindi aspettative deluse della società in modo più adatto possibile maggiore libertà maggiore adattamento ma migliore evoluzione le teorie scientifiche si migliorano grazie alla libertà cioè falsificandole lo stesso vale per le società quindi ce l'ha a morte Popper anche con tutte quelle teorie sociologiche positiviste ottocentesche che pretendono che la sociologia sia una scienza che di fatto descrive la società migliore che possa realizzarsi le utopie no la società migliore è quella a cui arriva la normale evoluzione dell'essere umano l'olismo vi ho messo qua va bene questa l'accenniamo soltanto perché ho già parlato di società aperta quindi l'olismo in realtà è qualcosa che viene prima la dialettica porta all'olismo che significa olismo l'olismo è il tutto oggi si parla spesso di teoria del tutto ma quando si parla e non è un qualcosa di brutto di per sé ma quando si parla di teoria del tutto ricordiamoci sempre che si parla di una teoria cioè si parla di un qualcosa che descrive quindi qualcosa che non è il tutto è una teoria sul tutto qui ci ricorda quello che ho detto prima ogni modello ogni scusate ogni ipotesi ogni teoria è sempre un modello è sempre una semplificazione la teoria coglie sempre aspetti selettivi della totalità ogni volta che cerca di avere un aspetto totale porta a un punto a un totalitarismo in scienza come in altri ambiti come appunto in sociologia come normalmente succede nella scienza per migliorare le teorie così per migliorare le società lasciamo gli individui liberi l'esempino che vi faccio accanto vabbè buttatelo via perché ora è un po' troppo lungo da spiegare mi sono dilongato comunque come ho accenato l'unica cosa che ti tengo a dire quello che ho accenato prima che anche in ambito scientifico qui ad esempio avete Duem che è un epistemologo scienziato occupato soprattutto di fisica e ha portato ha contribuito all'evoluzione della fisica anche non poco ma era un olista quindi è uno di quelli che sosteneva che non si può indagare dei risultati scientifici se non dal punto di vista del cosiddetto tutto ogni proposizione non è isolata ma è verificata all'interno di un insieme di proposizioni tra loro collegate che detto così può anche sembrare condivisibile ma come ci ha spiegato Popper questo sarebbe un grosso freno per la ricerca scientifica il modo migliore perché la scienza come le società evolvino è che affrontino la realtà in modo selettivo e soprattutto cercando di falsificare quanto più possibile le proprie credenze per non cadere tra l'altro vittime di quella metafisica da cui la scienza precedente cercava di scappare spiego meglio i miei pregiudizi sono utili dice Popper per indagare ma quando ho indagato ho risolto che una mia aspettativa non si verifica quindi ho un problema il mio compito è la teoria l'ipotesi che costruisco sulla base di quel problema sia falsificata altrimenti divento vittima del mio pregiudizio il totalitarista scientifico è quello che ho un pregiudizio vado nella natura e cerco di giustificarlo appunto di verificarlo io non voglio verificare cioè i positivisti di Vienna in pratica raggiungono l'obiettivo opposto a quello che si sono dati giustificare una teoria scientifica significa giustificare cercare di giustificare un pregiudizio no il pregiudizio va falsificato ma non va allo stesso tempo eliminato perché è l'inizio della mia ricerca e anche la fine di questa lezione se ci riesco è un pregiudizio